Grande Fratello, un discusso volto reality sbarca su 0NLY Fans. È trascorso appena un mese dall'annuncio della rottura tra l'ex senatrice Stefania Pezzopane e l'ex concorrente del Grande Fratello Simone Coccia con l'aiuta. I due, dopo nove di relazione, hanno deciso di separarsi a causa di problemi legati alla troppa diversità e all'impossibilità di immaginare un futuro insieme come coppia. Nei giorni seguenti all'annuncio, sia Stefania che Simone hanno partecipato a programmi televisivi come Domenica e Nè Pomeriggio 5, commuovendosi nel raccontare l'epilogo del loro amore. A distanza di circa una settimana dall'ultima apparizione televisiva dell'ex pogliarellista nel talk pomeridiano di Barbara D'Urso, ecco spuntare un post che gli è valso parecchie critiche. Recentemente Simone ha pubblicato su Instagram uno screenshot in cui annunciava la sua iscrizione a 0NL i Grecafans. Il social argamente utilizzato per la condivisione di contenuti espliciti. Il tempismo di questa scelta non è stato visto di buon occhio dagli utenti del web. Tant'è che anche un personaggio televisivo ha voluto dire la sua. Si tratta di Lucia Bramieri, che con Simone aveva partecipato al Grande Fratello nel 2016. All'epoca, la stessa Lucia mise in guardia la pezzopane rivelando che tra lei e Simone c'era stato uno scambio di messaggi. Poche ore fa, la vedova di Cesare Bramieri ha condiviso sul suo profilo social il post di Simone, così commentando.